amici modellisti benvenuti su amati modellismo episodio numero 13 e l'episodio di oggi sarà ovviamente concentrato su due figure e su qualche altra cosa che è importante per la costruzione ma prima di iniziare a lavorare vi voglio suggerire di seguire la pagina facebook di amati modellismo per rimanere aggiornati sull'uscita di tutti i prossimi video di impariamo a costruire il kit amati della meflower in scala 1 a 60 ma vi invito anche a seguire la pagina facebook e il canale youtube di modelonpassion dalla quale insomma nasce la costruzione della meflower e di tantissimi altri progetti che andranno anche in cantiere dove poter andare a vedere dei video io li chiamerò extended edition quindi aggiuntivi dove avremo più tempo a disposizione e quindi possiamo andare a spiegare ci saranno delle aggiunte in dettaglio sulla costruzione per rimanere aggiornati ovviamente attivate la campanella su youtube e qualsiasi altra forma di notifica per sapere quando i video escono episodio numero 13 dicevamo e partiamo proprio dalla figura numero 16 e 17 che seguendo le istruzioni sia ad immagine sia le istruzioni scritte ci dicono di andare a montare quelli che sono i blocchettini di poppa estrema quindi lo ricordo quelli che si trovano esattamente qui ecco che la telecamera riprende quindi nella parte praticamente posteriore dell'imbarcazione ma seguendo appunto le istruzioni una volta che abbiamo montato i blocchettini bisogna andare a rivestire con i listelli di millimetro 0,5 x 3 per intenderci quelli indicati col numero 41 e 42 nell'elenco dei materiali sul foglio di istruzione e sono per intenderci ancora in maniera più chiara quelli chiari quelli color giallo paierino leggermente sporcati di marroncino che sono appunto in dotazione all'interno del kit i listelli verranno posizionati come in figura si andrà a creare il foro per il buttafuori questo lo potete fare direttamente già nella figura 16 o successivamente cioè prima di fare la listellatura o in questo preciso istante stessa cosa accade nella figura 17 come abbiamo rivestito con i listelli le paratie della poppa estrema andiamo a rivestire lo specchio di poppa come lo andremo a rivestire? nella parte prima dell'apertura della barra del timone in maniera trasversale invece a 45 gradi e poi vedremo insieme quando le andremo a montare come potete ottenere bene il 45 gradi nella zona dello specchio di poppa questo come ho detto i listelli saranno in questo caso 1x3 quindi il numero 43-44 nel foglio di istruzione ma la cosa importante queste operazioni le potete fare sia prima della listellatura che dopo la listellatura io vi consiglio soprattutto per chi ha le prime armi di farlo prima e non dopo la listellatura dello scafo cioè il rivestimento prima di proseguire con la costruzione incominciamo a preparare quella che è la chiglia la completiamo e andiamo anche a rivestire la barra del timone questo perché? perché noi abbiamo un compensato e il compensato o lo lasciate così com'è le tecniche sono tantissime o lo lasciate così com'è oppure lo dovete rivestire con un legno pregiato oppure possiamo andare a utilizzare una qualsiasi pasta di legno all'acqua vi consiglio all'acqua non usate solventi per ottenere l'effetto desiderato in questo caso per mantenere una certa uniformità con il colore dello scafo abbiamo avuto in dotazione dal kit che cosa? i listelli in faggio allora io ho scelto proprio il faggio eccolo qui ho scelto proprio il faggio come pasta per mantenere una certa uniformità di colore ovviamente voi potete cambiare tipo di pasta di colore di pasta potete cambiare il tipo di legno potete fare quello che volete perché l'importante è avere come kit la struttura portante che è questa qui quindi adesso non ci resta che passare la pasta sulle parti vediamo come vi ho detto qualche tempo fa in qualche video passato adoperiamo un po' di oli quindi io ho acquistato dell'olio pardon quella mano l'olio paglierino e un olio rosso voi potete comprare anche un olio di lino crudo un olio di lino cotto come volete ho scelto questi due tipi di oli per andare a lavorare sulle tonalità quindi andare a creare delle tonalità insomma diverse che cosa ho praticamente realizzato? una prima miscela con il 10% di olio rosso e un'altra miscela con il 30% di olio rosso diluito ovviamente in solo olio paglierino non ho aggiunto nessun tipo di solvente né acqua né niente per il semplice fatto che devo andare a riprodurre semplicemente il colore della quercia sporcata ovviamente perché c'è tutto un processo di cui poi andremo a parlare quindi vorremmo simulare anche quel processo non è una quercia pulita ma una quercia sporca quindi c'è anche da fare questo passaggio quindi andremo a dare prima delle pennellate sempre maggiori quindi graduate da più basso al più l'alto di olio paglierino e poi andremo a miscelare con l'olio rosso vediamo ecco dunque il risultato abbiamo praticamente portato la colorazione della classica quercia il legno utilizzato nel 600 per la realizzazione dello scafo abbiamo realizzato anche tutta la parte posteriore del timone questo ovviamente è la colorazione base abbiamo poi siamo andati a realizzare quello che è il secondo pezzo che andava generalmente a comporre la barra del timone di questa epoca abbiamo completato anche siamo andati a preparare anche la parte posteriore con il pezzo il piccolo pezzettino di riferimento e giunti a questo punto l'imbarcazione è praticamente pronta a quella che è la fase della listellatura che incomincieremo a vedere dal prossimo video grazie a tutti di averci seguito e al prossimo video